Ciao a tutti Bene, qualcuno si starà chiedendo come mai non mi vede più online Niente, vi do un breve comunicato Sono stato bloccato 30 giorni da Facebook Con motivazione di incitamento all'odio In realtà io, mi conoscete tutti Non incito all'odio Non sono razzista, non sono omofobo Non sono niente di qualunque cosa mi si possa dire L'unica cosa che posso dire è che dico la verità Verità che nessun media mainstream Nessuna persona pagata vi dice Né tantomeno i politici Semplicemente, quello che dico Sono frutto di analisi Che qualunque persona normodotata Arriva Se ha un minimo di pensiero critico E capacità di raziociglio Capacità di unire i puntini Dato che ogni cosa che dicono Non sta né in cielo né in terra C'è totalmente disinformazione Manipolazione di massa Sempre le varie tecniche In cui molte persone poco consapevoli abboccano Con regole che non stanno scritte da nessuna parte Con sentenze Sentenza numero 516 del 2020 Depositata a Frosinone dal giudice di pace Dicendo che tutti di CPM Quindi mascherina Il lockdown Le multe Tutta questa roba qui È illegittima È illegale Cosa vogliamo chiamarla? Dittatura sanitaria? Qualcuno dice di no Comunque Io Se vengo censurato un mese Per non avere fatto niente Perché metto Perché dico delle verità Che tra l'altro In molti comprendono Forse non hanno il coraggio di dire Vediamo questa farsa Finché Finché andrà avanti Adesso in questo video Non dirò niente Perché sennò me lo levano Però sapete le cose Che sto dicendo da 7 mesi ormai Le ho dette tutte Punto per punto Per file per segno Con tanto di dettagli Con legamenti Retrascena Motivazioni E tutto quanto Quindi Molti Ci arrivano Purtroppo molti ci arrivano tardi Comunque il discorso non è quello Il discorso è Viviamo in una democrazia Dove c'è libertà di espressione In tutti i modi Dove abbiamo una costituzione Dove Praticamente è stata Totalmente violata In ogni articolo E quindi Di che cosa stiamo parlando Stessa cosa Youtube Mi viene fatto problema Per ogni Per ogni video che metto Ma probabilmente qualcuno Che mi segnala I soliti antisemiti Perché Se uno Mette un video documentario Su Israele Documentari storici Di guerre Di cose che sono Successe Che si possono benissimo Vedere in televisione Me li Vedremo Vedremo come Come va Comunque Chi fa questo È un antisemita Siete degli antisemiti Mi dispiace Poi Addirittura Anche altre notizie Su facebook Cioè per esempio Mi è stata I fact checker Stiamo rammazzati Che sono solo degli infami Dei Come dire Piccola gente frustrata Che ha dei problemi E quindi se la prende con gli altri L'unico modo che ha Di farlo è questo Però il coraggio Di venirmi a dire qualcosa In faccia Non ce l'ha I fact checker Mi bloccano E mi segnalano I post Per esempio Uno degli ultimi Che mi è stato censurato Era una foto Dove Si vedevano La gente Nella massinfestazione Di Berlino Di Londra In Polonia Quelle che stanno succedendo Fuori da questo Paese Se così si può chiamare Una repubblica fondata Sulla menzogna E sulla paura Dei covidioti Perché queste Sono le persone Che stanno dietro A tutta questa farsa Persone purtroppo Con un quoziente intellettivo Di 70 O inferiore Perché Bambini di 10 anni E persone anziane Analfabete Hanno capito tutto Non si sa come mai Fiorfior di laureati Non capiscono O si sono fatti Totalmente manipolare Comunque Il discorso è questo Me Che non sono nessuno Non ho visibilità C'ho poche persone Su facebook Il mio canale In youtube Non se lo caga nessuno Però a caso strano C'è gente Che Qualunque cosa ammetto È già segnalata È già fatta Violazioni di niente E mi bloccano I video Niente Questo video era per dire Che stanno censurando Anche me Non solo La cosa che fa ridere È che Dicono che non hanno soldi Che non hanno mezzi Che non hanno questo Che non hanno quello Poi Come avete visto Durante L'affanta pandemia Droni Elicotteri Per gente che usciva A camminare Cioè Da sola Quindi già lì Capiamo Poi Invece Tempo prima Quando persone chiamavano Avevano bisogno Non si vedeva nessuno Non avevano benzina Non avevano i mezzi Comunque Per mettere Delle task force Dietro di me Su internet Che non è che Sto facendo Comizi politici Anche perché a me Dalla politica Mi interessa Non è che Chissà cosa sto facendo Sto incitando Cioè Semplicemente Dico delle notizie Che anche altri dicono Che sono chiare E palesi Niente Vengono censurate Non solo Non solo Questa domenica Sono stato invitato Sono stato invitato A Presso una lezione Di musica In un luogo Sacro In un luogo religioso Ecco La Digos È riuscita a seguirmi È riuscita a seguirmi Lì dentro Tra l'altro Facendo una figura Grama Perché comunque In un certo luogo Dove ci sono certe persone Ti spuntano Due tipi Così Che Cioè Li hanno sgammati tutti Tutti li guardavano Stavate una figura Becera proprio Perché Segui me In un luogo sacro Cioè E soprattutto Vengono spese Risorse Per questo Cioè Siamo proprio Cosa è Cioè Poi un'altra cosa Tutti questi Forze dell'ordine Se così vogliamo chiamarle Hanno giurato Sulla Costituzione Mi sembra O hanno giurato Fedeltà al governo Conte Non capisco questa cosa qui Mi sembra di essere Mi sembra la Stasi Cosa siamo La polizia politica Ormai Cioè una dittatura Una dittatura Filocinese Nemmeno lo stalinismo Ha mai fatto Delle robe del genere Il nazismo In confronto Erano dei dilettanti Cioè Cioè Siamo proprio Siete il massimo Guarda Che poi La cosa bella Basta uscire Da questo paese E tutto è normale E tutto è normale Ve l'ho dimostrato Con le foto Della Polonia Ma non solo Cioè In giro fanno Fanno le manifestazioni Di milioni di persone Per non dire Tutte le notizie Come vengono Falsate Nascoste Manipolate Viene fatta la distrazione E comunque Tutto quello che ho detto Si è avverato E si sta avverando Punto per punto Io più che dirvelo Non posso fare Sicuramente Non ho Potere io Di cambiare le cose Io posso solo Dirmi le cose Poi ognuno Sceglie Come queste persone Che fanno i fact checker Quelli che mi seguono Nei luoghi sacri Quelli che stanno A bloccarmi A censurarmi Un mese Su facebook A bloccarmi A segnalarmi I video su youtube Fanno capire Che cosa sono Il loro livello Di coscienza E mi dispiace dirlo Sta scritto Qualunque lingua Si innalzerà Contro di te Tu la condannerai Questa è l'erdità Di servi del signore E altresì scritto Non parlate Contro i miei unti E non fate male I miei profeti Per amor loro Castigo dei re Quindi Se castigo dei re Figuriamoci Cosa fa questa persona Io Non ho nulla Da nascondere Non faccio nulla Di male Dico la verità C'è libertà Di pensiero E di parola Quindi Quello che vi dico Io vi benedico Vi perdono Ma tutto quello Che fate contro di me Lo raccoglierete Perché quello Che si semina Si raccoglie Quello che fate a me Lo raccoglierete doppio Voi e i vostri figli Perché chi ama giudizio L'eterno Contro di voi Nella pace Nell'amore Perché io amo tutti Però si dice Male non fare Paura non avere E vediamo Così si vede la differenza Che c'è Tra chi serve Dio E chi non lo serve E attenzione Dio non è un uomo Con la barba Su nel cielo Quel Dio lì Non esiste C'è una Questa è una nazione Di pagliacci Pagliacci Tutti che eseguono Gli ordini Tutti che fanno I delatori Che guardano gli altri Nel nazismo Sono morti Sei milioni di ebrai Con questo motivo Più tanti altri Invece qui abbiamo Le persone Che per mille euro Di stipendio Vendono la loro nazione Ma tanto perderete Anche l'anima E scritti L'apocalisse Che andrete Alla morte seconda Cioè perderete L'anima Regredirete A tal punto Che perderete L'anima E andate Alla morte seconda Non sarete più umani Perché quando si muore Non finisce la vita La vita continua Ma non esiste Il paradiso L'inferno Come vi fanno credere Vi arrangiate Quello che si semina Si raccoglie Io non faccio Del male a nessuno Ma siete voi Che vi state facendo male Con le vostre mani Quindi Io lo dico Per la vostra salvaguardia Se volete combattere Contro Dio Venite Fate pure Cioè Venite pure Cosa mi potete fare Al massimo Mi potete anche ammazzare Ma più di quello Non abbiate paura Di chi uccide il corpo Temete chi può buttare L'anima nella genna Dopo aver ucciso il corpo Quindi Tra l'altro Lo dico qui Io ho preso le mie precauzioni E se mai deve succedermi qualcosa Vedremo Complimenti 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 a voi Covidioti E complimenti a voi Sbirraglia Da quattro soldi Mercenari Comunisti Siete dei comunisti Una volta almeno erano di destra Le forze dell'ordine Oggi siete dei Dei mercenari Dei mercenari comunisti Del governo Conte Tanto tra poco Cadrà anche lui La cosa che non vi rendete conto È che siete tutti coinvolti Tutti complici Ma a voi non vi salverà Perché tutti avete dei genitori Tutti avete degli amici Tutti avete dei figli E quando il vaccino Sarà obbligatorio Sarà per tutti I tamponi O Essere in contatto Con qualcuno Con qualcun l'altro Ce l'hanno tutti Visto che Questo sistema Sta facendo tutto questo Fate pure Io vedrò Come sempre Le mosche Come le mosche Cadere le persone Fate pure È tutta la vita Che lo vedo Fate pure Anzi Hai visto che Fate questo Quando si scatenano le piaghe Arrangiatevi poi Locuste Terremoti È solo il principio Ma io ovviamente Posso solo Benedirvi Buona vita a tutti Ciao Shalom Grazie a tutti